Sì, credo che abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, così come l'abbiamo fatto anche la partita scorsa contro la Cremonese e poi alla fine qualsiasi squadra che gioca in Serie A hanno la qualità per sicuramente punirti e quello che ci è successo. Adesso bisogna solo lavorare, fare una gran settimana che ci arriva una una partita difficilissima e in casa abbiamo bisogno della nostra gente e sicuramente ci prepareremo della migliore maniera per per vincere quella partita. Credo non sia una cosa che adesso ci chiediamo noi, bisogna andare partita partita e cercare di fare il massimo punti possibile. Con Premio ho una grande amicizia e li desidero sempre sempre meglio, è un grande giocatore e sono un gran amico suo. Credo che soprattutto non siamo stati attenti nel secondo e terzo gol che sicuramente quel secondo gol ci ha fatto un po' male perché noi andavamo in vantaggio a fine primo tempo e sicuramente uscivamo in un'altra maniera nel secondo tempo e poi il terzo gol dobbiamo essere molto più attenti e viverla di più e non è stato così. No, alla fine noi guardiamo noi stessi e la gente può fare quello che vuole.